Una sfida che decreterà chi entrerà nella lista dei ripescaggi alla Serie D per la Lega Pro. L'Aquila San Benedettese, domani pomeriggio alle 16 a Gran Sasso d'Italia, significherà principalmente questo, oltre a disegnare la formazione vincitrice dei play-off nel girone F della Serie D. Nelle semifinali, gli Aquilani hanno impattato 2-2 contro il Roma City, in una gara conclusa ai supplementari, mentre i marchigiani sono andati ad imporsi 2-1 ad Avezzano. Durante la regular season, l'andata il 26 novembre a rivelare le palme, si impose 2-0. Era la tredicesima giornata alla San Benedettese, con una doppietta di Tommasini, mentre al ritorno, in occasione del trentesimo turno, lo scorso 7 aprile, arrivò al successo dell'undici di Cappellacci, complice a nodo gol nella ripresa al sessantesimo. A guidare le operazioni nel corso del match, una terna settentrionale, con arbitro Maxim Frasiniak di Galarate ed assistenti Ivan Melniciuk di Bologna e Lorenzo Gatto di Collegno.